Grazie. Grazie a tutti e grazie a professore Altini che mi ha introdotto e sono molto felice e anche veramente sorpresa di essere arrivata in questa sede bellissima e di avere davanti un pubblico in cui ho riconosciuto anche alcuni amici e questo mi dà un senso così più confidenziale in questo racconto che andiamo a fare adesso. Lei, professore Altini, ha già toccato uno degli elementi. Io ho portato delle immagini che sono dei dipinti di paesaggio che guarderemo insieme e magari anche attraverso degli spezzoni perché vogliono in fondo provare alcune cose. Una delle quali appunto è che il paesaggio dipinto non è esattamente lo specchio della realtà, come è stato detto, insomma molte volte è un paesaggio di idee, cioè l'artista sceglie, seleziona, stralcia, interpreta e alla fine restituisce qualcosa che non solo non è esattamente lo specchio di quello che l'occhio potrebbe registrare, ma addirittura a volte gli artisti hanno come delle antenne e selezionano nel paesaggio degli elementi di questo DNA del paesaggio che alla fine per noi quello diventa il paesaggio italiano, cioè quello che a volte io penso è che noi abbiamo un'idea del paesaggio italiano che molte volte è stata filtrata da certe immagini che hanno creato e inventato gli artisti. Voglio fare un esempio concreto. Quando si viaggia in Francia verso la Provenza, con la macchina c'è questa autostrada del Midi che passa lungo la costa e passa a un certo momento vicino a una città che è Aix-en-Provence. Prima delle città in Francia a fianco dell'autostrada ci sono questi grandi cartelli marroni che indicano il luogo. Quando si arriva ad Aix-en-Provence invece di esserci scritto Aix-en-Provence c'è scritto Paysage de Cézanne, perché un grande pittore come Cézanne tutta la vita ha dipinto quella montagna Saint-Victoire, quei monti che stanno dietro alla città e alla fine questo luogo viene indicato come se fosse un luogo che per la prima volta lo sguardo di un pittore ha reso visibile e per noi è diventato quel luogo. Quindi non sono fedeli molte volte i paesaggi, però alla fine plasmano una certa idea di alcuni luoghi che noi continuiamo a vedere in fondo anche attraverso lo sguardo dei pittori. Comincio con una immagine che è quasi una cartolina, cioè questa è una veduta di Venezia, del luogo più tipico e più famoso di Venezia, quindi il Palazzo Ducale e il Campanile di San Marco, dipinta da un grande pittore romantico inglese, William Turner, il quale viene in Italia diverse volte, questo è il 1818, lui scende a un albergo veneziano in Leon Bianco e dipinge questa veduta di Venezia. Intanto la dipinge con una tecnica che da noi non si usa affatto, noi siamo nobili con una grande tradizione rinascimentale, da noi si dipinge olio su tela per sempre, dei quadri che hanno una durata. Lui usa l'acquarello che per noi era quasi una tecnica da signorine, insomma era quasi una tecnica di secondo piano. E poi l'acquarello è liquido, fugitive, dicevano gli inglesi, cioè è difficile da bloccare, tende a scivolare sulla carta e lui dà questa immagine di Venezia che per noi è la quintessenza di Venezia. Noi oggi quando andiamo a Venezia la vediamo così, cioè una città eterea, immateriale, fatta di cielo, di acqua, senza dei contorni nitidi, quasi una città a bassa risoluzione diremmo se usassimo un'immagine di oggi. Cioè questa per noi, nella percezione di noi tutti, è l'idea di Venezia che è una città appunto così eterea, così immateriale e in realtà questa idea di Venezia che per noi tutti è diventata oggi l'idea che abbiamo, è un'idea che nasce in età romantica, nasce da un pittore come Turner e da un grande poeta che era Lord Byron e i quali cominciano a raccontare Venezia vista in questo modo che è poi questa città liquida, questa città senza contorni, questa città dove l'acqua si confonde con il cielo, meravigliosa perché Brodsky che era un grande scrittore che ha avuto il premio Nobel diceva Venezia è la mia forma di paradiso, cioè è una città unica insomma nel mondo e che arriva, voi la vedete qui in un'immagine di Monet, cioè di un grande impressionista francese, il quale elabora, svolge questa stessa idea che aveva introdotto 50 anni prima questo pittore romantico inglese che è William Turner, il quale rappresenta Venezia in questa forma quasi in disfacimento, quasi una città erosa dall'acqua, dalla luce, che sarà poi l'immagine che fino a Debussy, fino a tutta quanta l'idea della grande città englutti, inghiottita dai flutti, continuerà ad andare avanti. Quindi dico questa immagine di Turner che a noi sembra così giusta per Venezia, se l'è inventata lui, perché fino a quel momento Venezia, dal più grande pittore di vedute veneziane nel mondo, cioè Canaletto, che lavorava a Venezia, lavorava a Londra, aveva una fama internazionale, Venezia era una città di terra, una città solida, fabbricata, costruita. Quando Goethe arriva a Venezia dice è una città di castori, cioè su queste palafitte questi lavorano come... e quindi questa veniva percepita, insomma, come una città costruita, fabbricata, non così, diciamo, che si disfa quasi nell'aria. E questa, vabbè, è una cartolina che riprende l'idea di Turner, questi sono i marmorari di Campo San Vidal a Venezia, cioè gente che lavora sulla terraferma come fosse terraferma e quindi la città è sempre quella, sto dicendo. Però vengono degli artisti i quali estraggono da questa idea della città alcuni elementi che poi la caratterizzano. E nell'età più moderna nostra, Venezia è diventata quella specie di bisanzio della decadenza, questo luogo fino a Thomas Mann, la morte a Venezia, il disfacimento pieno di fascino, ma appunto una città della dissoluzione, da quando Turner per la prima volta ha ribaltato il modo di leggerla, di vederla. Quindi questo per dire che gli artisti non sono, diciamo, neanche i fotografi riflettono le cose come sono, c'è una componente molto soggettiva e in età romantica tu cogli della stessa città una cosa molto diversa. Faccio un altro esempio, per chi abita a Roma attorno c'è un paesaggio che è quello della campagna romana, campagna con la C maiuscola perché tutti scendevano dalle Alpi, da Goethe eccetera, per visitare questo luogo dove c'erano questi greggi, le rovine, gli acquedotti, cioè fuori Roma, lungo il Tevere, verso Ponte Milvio, verso il nord, c'era questo luogo meraviglioso che era la campagna romana. Tutti i pittori l'hanno dipinta. Se noi prendiamo un pittore come è Poussin, che è un grande pittore del Seicento, la campagna romana è un luogo idilliaco, perfetto, ritmato, ideale. Poi se tu vai a leggere gli storici, a cominciare da Sereni, gli storici agrari, ti spiegano che in quegli anni in cui Poussin la dipingeva come un paradiso perduto, la campagna romana era piena di malaria, di bufali inferociti, di luoghi terribili, difficili per l'uomo, poco coltivata. Addirittura Thomas Moret dell'Inghilterra diceva che i greggi stanno divorando gli uomini, perché non c'era altro che un pascolo brado e selvaggio. Quindi, però poi tutta Europa è venuta in Italia sognando questa campagna che aveva conosciuto attraverso i dipinti di un grande pittore, che se l'era in qualche modo inventata o sognata, però alla fine ha fatto presa e per noi quella è l'immagine. Ancora per... ecco, voglio farvi vedere altri dipinti di Turner. Se voi pensate che questi sono dei dipinti di Venezia, eseguiti a Venezia, e che hanno una data 1815-20, sono ormai dei dipinti quasi astratti, dove, insomma, noi li dateremmo nel pieno Novecento, dei dipinti così liberi, dove non esiste più quasi la forma, esiste soltanto questo sentimento di una città che è più... non sono più dei paesaggi visti con la retina, ma percepiti, diciamo, dal cuore, da come... dall'emozione, e con una libertà che è una libertà assoluta. Un'altra immagine di Turner, insomma, che siamo sempre in pieno... primi dell'Ottocento, di una tale disgregazione formale, vicini ormai a una visione, diciamo, astratta della città. Ecco, scelgo un altro momento che è cruciale. Io faccio molta fatica a parlare in termini così alti e filosofici, perché devo dire che sono... ho avuto un'educazione sfortunata sul piano della filosofia, con degli incontri sbagliati, e è sempre rimasto per me molto difficile come linguaggio. E non dico proprio... E gli artisti, insomma, Annibale Carracci diceva, che era un pittore del Seicento, diceva, noi altri dipintori abbiamo da parlare con le mani. Quello che conta è esprimerci attraverso un linguaggio che è molto diverso da quello del pensiero, però non è poi sempre stato così. Arrivano generazioni di pittori che oltre a essere molto dotati dal punto di vista del disegno, diventano anche degli uomini che pensano, che vivono in ambienti molto sofisticati. Insomma, sono degli intellettuali che usano un linguaggio invece che la scrittura o invece che altre cose, si esprimono attraverso il dipingere. E a fine del Settecento c'è un grande teorico tedesco, che è Winckelmann, il quale dice che il pittore deve intingere il pennello nella mente. Cioè dire, basta questa bravura italiana, questo virtuosismo, questa capacità di Tiepolo e di questi grandi decoratori di dipingere un soffitto in una notte, di fare delle cose meravigliose. Ci vogliono anche l'aspetto concettuale, l'aspetto delle idee. E quindi, da un lato, gli pittori diventano più, riflettono sul pensiero, dall'altro vivono in un mondo dove, anche se non sono perfettamente consapevoli, sono successe tanti cambiamenti filosofici e culturali nel Settecento che anche inconsciamente tutti ne vivono. Una delle cose che cambia profondamente è appunto il rapporto con la natura. Ora, qui noi parliamo di dipinti di paesaggio, di dipinti di paesaggio, ma quello che non dobbiamo dimenticarci, questa è, scusate, una fiction, insomma, abbiamo fatto un documentario sulla cascata delle marmore, perché Terni, che è una città di acciaierie, e le acciaierie oggi sono un disastro, sta tentando di recuperare una centralità invece come luogo meraviglioso dell'Umbria dove attorno hai queste cascate e le marmere, questi luoghi di papigno, questi laghi stupendi dove tutti gli artisti da Coro, eccetera, hanno vissuto e quindi stanno ripristinando tutti questi cammini e questi luoghi, il ponte di Narni, meravigliosi dell'Umbria, per restituire alla città una possibilità alternativa e diversa, dato che quella industriale è in declino. E allora, scusate, faccio vedere un'immagine, ma sto dicendo che dei dipinti di paesaggio sono esistiti sempre. Per esempio, quando abbiamo visto queste Venezie grandi dipinte da canaletto, è una veduta di un paesaggio veneziano. Però il pittore ha sempre lavorato nello studio, nello studio. Cioè, l'idea di andare a dipingere dal vero è una cosa che non esiste per moltissimo tempo. Qui voi vedete sulla destra il vecchio Coro che dipinge all'aperto, perché a un certo punto succede che istintivamente, io non dico che questi pittori sapessero tutto di Jean-Jacques Rousseau, del ritorno alla natura, della filosofia, di questo sogno di ritornare a un momento originario e perduto, del rapporto intatto con la natura. Però vivono in questa couche di fine Settecento, in questa cultura, e anche loro assorbono delle cose che li spingono a fare questo passo. E uno dei momenti di svolta assoluto è quando gli artisti lasciano gli studi e l'atelier e vanno a dipingere fuori. questo è un passo enorme perché cambia veramente tutto, è come per noi quando decidiamo di viaggiare, cioè tu devi avere una cassetta di colori molto più piccola, non puoi più dipingere su delle tele di tre metri perché non te le puoi portare dietro, non puoi più dipingere su tela perché l'olio su tela per asciugare ci mette tanto di quel tempo, tante sedute. Ora, se tu vai a dipingere fuori, lo fai perché conta che cosa? La luce, la luce che cambia così velocemente per cui uno di loro, un artista bravissimo che va all'onsien, diceva se dipinge un tramonto mezz'ora, non più di mezz'ora perché questo rapporto, questa idea di catturare la luce è qualcosa che ha una brevità assoluta, quindi devi avere delle tecniche completamente diverse, quindi dipingere per esempio su carta o olio su carta o acquerello su carta perché asciugano in fretta, delle dimensioni molto diverse, di solito voi vedete qui una scatola di colori che è in un museo americano che è rimasta di Thomas Cole che è un pittore americano che viene in Italia nel 1818 e vedete che nel coperchio puntato con quattro spilli c'è il dipinto che lui esegue all'aperto io ho identificato che era una veduta di Pestum, quindi era andato a Pestum e dipingeva dal vero, quindi dipingere on the spot parlo troppo in fretta? Forse sì, dipingere on the spot, dipingere from nature, come dicevano, dipingere dal vivo insomma, sui motifs, dicevano i francesi, voleva dire cambiare radicalmente la tecnica, andare veloci, usare delle tecniche diverse, dei supporti completamente diversi e voi capite che se si cambia la tecnica non è solo una questione di tecnica, cambia completamente il linguaggio. Ancora Brodsky, che è un scrittore che amo immensamente, diceva che la tecnica è un acceleratore del pensiero, cioè voi cambiate una tecnica e vi accorgete che vi dà delle possibilità diverse che non avevate immaginato prima e quindi quando l'artista deve andare in fretta a un certo punto deve, faccio vedere che poi naturalmente la storia di questo dipingere all'aperto porta poi all'apoteosi di questa esperienza che è quella dei pittori francesi dell'impressionismo verso il 1870, ma qui siamo ancora alla fine del Settecento quando comincia, quindi io faccio vedere un'immagine bellissima di Manet per dire che quello sarà poi il punto d'arrivo. Ma il momento iniziale, questo è di Manet, meraviglioso, ma il momento iniziale è quando gli artisti escono dall'atelier e dipingono all'aperto. Io qui, per opposizione, perché mi piace poi sempre far vedere come sono complicate le cose, non c'è una sola strada, faccio vedere un dipinto fatto da Kersing il quale rappresenta il più grande pittore romantico tedesco che è Friedrich, il quale dipinge, sta dipingendo un paesaggio. Ora vedete che in questo caso, Friedrich dipinge un paesaggio in una stanza chiusa, sbarrata e addirittura con le spalle verso la finestra. Perché il paesaggio di Friedrich è un paesaggio interiore, cioè è un paesaggio dell'anima, è qualcosa che lui può proiettare così. Quindi ci sono molti modi di ritrovare la natura, con lo sguardo, immergendosi nella natura, avendo un rapporto di interazione, oppure in maniera molto soggettiva rileggendola la natura. Lei poi tradurrà tutto in termini filosofici più corretti. Quindi questo è il dettaglio. e voglio dire che anche in questo ambito il fuori, cioè non c'è niente che sia neutrale. Un pittore vuole rappresentare il fuori, ma il fuori in sé può essere da un lato una visione chiarissima, solare, precisa, oppure può essere come in questo quadro misterioso e meraviglioso di Friedrich, che è sua moglie vista alla finestra, a Dresda, nella loro casa di Dresda, può essere invece la finestra invece che spalancare su un mondo chiaro, raccontato, la finestra diventa nella pittura nordica e romantica tedesca diventa invece una specie di diaframma, diventa la soglia verso il mistero. Guardate per esempio come questa figura già di spalle, quindi già misteriosa da sola, è come al centro di un asse in cui la finestra sopra a questa squadrata come fosse una croce su un altare, cioè in questi momenti questo tema così banale come è il paesaggio, qui siamo nell'Ottocento, dopo la rivoluzione francese, quando la rivoluzione francese ha cancellato la religione e tutta questa dimensione del mistero dell'uomo, il paesaggio diventa un tema, un soggetto attraverso il quale tu riversi questa domanda, queste interrogazioni dell'uomo sul mistero, su quello che è sconosciuto, sul religioso, sullo spirituale, cioè dipingere un paesaggio non è affatto una cosa decorativa, è veramente un rapporto con la natura che permette di porre quelli che sono gli interrogativi e questa è questa scena anche di questo interno così monacale, così diciamo astratto quasi come un Mondrian che dipinge Friedrich a quelle date. Ancora di più c'è come vedete un'apertura che darebbe sul fuori in realtà con questo uccello della notte così inquietante insomma il fuori è piuttosto il mistero, la soglia verso tutto quello che è sconosciuto mentre se voi prendete un artista francese questo è un pittore francese che viene a Roma ed è fortunato perché i pittori francesi sono gli unici che invece di che venire in Italia dove tutti volevano venire cioè l'Italia era già un paese decaduto che non contava più niente l'Inghilterra il rapporto industriale l'aveva scalalcata la Germania la Francia del pensiero dell'onciclopedia aveva azzerato diciamo la centralità che l'Italia aveva avuto nel Rinascimento o nel Seicento qui in questi anni l'Italia è un paese quasi dimenticato di decadenza però è ancora come dire il luogo della rivelazione quasi tutti questi artisti è soltanto quando arrivano in Italia che scatta qualcosa di straordinario nell'incontro con le rovine il passato la luce il paesaggio che li rende grandissimi poi ritornano in Francia Jacques-Louis David che è il più grande pittore della rivoluzione francese quando arriva in Italia dice mi sono cadute le cataratte cioè finalmente ho visto è successo quindi l'Italia ha ancora questa funzione di elemento di detonatore di elemento scatenante questo è un pittore francese che viene in Italia con molta fortuna perché lui insomma i francesi se vincevano un certo premio che era il Prix de Rome non venivano poveretti disperati a cercarsi un lavoro venivano nell'Académie de France che allora era Villa Medici e venivano per quattro anni coperti da una bossa di studio però dovevano assolutamente venire in Italia per studiare per carità non il presente che l'Italia in quel momento contava a zero ma il grande passato quindi le antichità Raffaello il rinascimento Caravaggio e mandare coppie e grandi esempi in Francia perché altri potessero studiare questo Quagné il quale scrive rimane per quattro anni a Villa Medici e scrive una lettera al suo maestro che è un allievo di David quindi perché noi stiamo parlando di paesaggio dobbiamo capire che nella nostra tradizione italiana la figura in una tradizione così antropocentrica quasi sempre la grande pittura è stata una pittura di figura di storia di racconti di composizioni importanti il paesaggio era considerato al settimo posto nella gerarchia dei generi e lui scrive a Guerin e dice mi chiedete che cosa mi abbia colpito di più in Italia mi dispiace dovervelo dire non è stata la storia non è stato il rinascimento ma è stata la natura cioè c'è questa scoperta di artisti che vengono mandati in missione per studiare il rinascimento e il grande passato e che rimangono incantati di fronte alla bellezza che deve essere un paese senza aggettivi di una bellezza struggente un altro inglese che io amo molto che è Thomas Jones e quando arriva in Italia dice it appear the magic land cioè mi è apparso un paese incantato perché la bellezza di questo paese armonioso dove le crete senesi si mesclano con i boschi dove la bellezza non è crudele e selvaggia ma è anche sempre una bellezza così e lui qui in questo caso il rapporto con la natura voi lo vedete perché anche lui apre la finestra come fa davanti a una finestra come faceva Friedrich però in questo caso i francesi nell'aprire la finestra hanno un rapporto con il fuori invece solare invece di conoscenza naturalmente qui dietro c'è tutto uno schema che viene dalla pittura olandese del 600 dove questo tipo di composizione il quadro nel quadro aveva una lunga tradizione mi sto perdendo troppo e comunque questo è un altro pittore di quegli anni che è Granet e che è ma vi deve conoscere queste anche biografie Granet viene in Italia ed estate cosa succede come molti di questi artisti d'estate non stanno a Roma perché Roma era una città malarica e quindi bisognava c'erano alcuni posti che erano più salubri un po' in alto e quindi quasi tutti vanno fuori nella campagna durante l'estate perché era pericoloso e allora si affittava con pochissimo queste stanze meravigliose della villa d'este a Tivoli che era una villa meravigliosa del Cinquecento abbandonata e qui avete Granet che si rappresenta mentre dipinge dalla loggia di Villa d'este allora che cosa vuol dire questo acquarello vuol dire che quest'artista vuole essere ricordato come un pittore che dipinge en plein air che dipinge fuori che è uscito vuole essere di se stesso vuole dare appunto questa immagine questo è il tema della finestra si potrebbe andare avanti mille volte questo è su Napoli questo per esempio voglio anche scegliere un quadro di un pittore che non è un grandissimo pittore un pittore di cui non sappiamo anche pochissimo ma ha un dipinto incantevole che è questo perché è all'interno di una cultura lei è la regina Hortensia che ha nel crollo era aveva sposato il fratello di Napoleone aveva avuto il regno d'Olanda poi era crollato l'impero napoleonico lei si ritira e va a Ex-Leban lasciando i bambini alla madre e succede che la sua amica Delbrock mentre camminano precipita in una cascata e muore quindi lei è sola e inconsolabile e in questa cultura Biedermeyer cioè questa cultura subito dopo la caduta di Napoleone cioè della restaurazione del ritorno a dei sentimenti domestici finalmente dopo tutto il furore della rivoluzione francese solo eroi solo grandi cose la gente cerca di ritrovare come nella musica di Schubert la musica da camera di ritrovare una dimensione più vicina e quindi questo artista che non ha un grande futuro però è capace all'interno di questo schema del ritrovare la natura come inquadrata nella finestra di raccontare un'immagine dunque i pittori vanno fuori ed è una cosa talmente strana che in questo bellissimo dipinto di Hubert Robert che è un pittore francese della fine del sezzecento voi vedete che ci sono questi artisti davanti alle cascate di Tivoli con le loro cartelle così e anche gli scugnizi che vanno lì a guardare estere fatti perché mai si era visto cosa che per noi magari è più la ricordiamo di qualcuno col cavalletto vicino a un ponte vicino a un fiume che dipinge ma allora questo era veramente il fatto completamente nuovo e quindi di essere sul posto e di lavorare in rapporto con la luce sono talmente belli questi dipinti perché sono questo è un tedesco von Roden che dipinge le cascate di Tivoli e vedete due cose che sono dei dipinti di paesaggio quelli che io amo silenziosi cioè senza un racconto non c'è una storia non c'è una storia né mitologica né una fugue in Egitto né una polle Daphne e nemmeno le tarantelle tutti gli elementi insomma diciamo del folclore c'è questa idea della natura immensa in cui qualcuno vuole naufragare cioè immergersi per usare una parola diciamo leopardiana e vedete questa e questa poesia io mi scuso di presentare quasi soltanto degli artisti non italiani perché succede che come hanno spiegato molte volte insomma anche Walter Benjamin in infanzia berlinese sono i non nativi che colgono lo stupore e la meraviglia di un paesaggio che ho sempre vissuto fra il Vesuvio e il Golfo di Napoli cioè due delle cose più belle del mondo non è in grado di raccontare questa meraviglia perché fa parte del suo quotidiano e quindi questa epifania del verde questa apoteosi di questa bellezza silenziosa dove la natura è assolutamente protagonista e non c'è più bisogno nemmeno di un titolo non c'è più bisogno di un racconto non c'è più bisogno di un pretesto in gran parte è raccontata dagli artisti stranieri volevo farvi vedere come lavoravano questo è un pittore lusieri che ha una storia straordinaria ma gli artisti quando dipingono all'aperto cominciano dal fondo e quello dà il tono e poi procedono e avanti molto spesso il primo piano è quello che non è finito perché è l'ultimo a dover essere e per noi questi non finiti sono ancora più seducenti del quadro completamente finito ma vedete che c'è una sagoma di una figura su un mulo questo è il golfo di Baia dove adesso c'è del centrale di ore elettriche di tutto ma allora cosa era la regione attorno a Napoli fra Napoli e Capua insomma questo è l'usieri questo vedete è il dettaglio che lui studia a parte per inserire poi nel dipinto voglio fare ancora un salto per dire come in questo momento il fatto di andare fuori scardina completamente tutte le idee che uno ha sul paesaggio questo è un dipinto che è alla National Gallery a Londra acquistato da abbastanza poco di un pittore inglese Thomas Jones e ha una data 1782 un muro a Napoli 1782 ora è chiaro che un pittore così moderno perché il taglio come dire quasi fotografico con una zoomata lui dipingeva sulla lastrica cioè sulla terrazza di questa sua povera casa a Napoli e forse con un canocchiale e dipingeva niente dipingeva un muro vedete che un muro di tufo come sono le pietre di Napoli e ha un doppio come registro perché ha un primo piano descritto con una grandissima analiticità attenzione c'è perfino quel dettaglio quasi commovente se vedete quella chiazza cioè dal balcone sulla destra viene giù come una piazza più chiara perché nelle case povere la gente buttava l'acqua dalla finestra e quindi il muro aveva questa chiazza ci sono questi stracci dove si capisce che forse c'è un bambino dentro in questa casa perché c'è una fascia e quindi ha questo primo piano estremamente di qualcuno che dipinge con grandissima attenzione quasi nordica e poi dietro c'è una spatolata di blu e una di bianco che sono il cielo e un'altra casa cioè c'è una una capacità di raccontare in maniera astratta come sarebbe in De Stal in Mondrian insomma senza più narrare e questo pittore faceva dei quadri così la sua storia in un minuto lui è un artista inglese che studia a Londra e diventa un pittore famoso che ha anche un bel mercato perché è specializzato in italianic landscapes cioè in paesaggi all'italiana quindi lui dipinge a Londra dei laghi di Nemi dei golfi di Napoli di tutti questi soggetti che i turisti che i viaggiatori amavano immensamente ha una voglia disperata di arrivare in Italia e incontrarla davvero questa Italia quindi mette da parte due soldi lui era molto colto doveva diventare un ecclesiastico quindi aveva studiato a Oxford viene in Italia e quando è in Italia davanti a questa realtà così diversa lui abbandona tutto questo repertorio che gli dava da vivere e comincia a dipingere delle cose invendibili perché nessuno al mondo un viaggiatore del Grand Tour del 1780 si sognerebbe di portare a casa un dipinto così se voi vedete queste grandi country houses inglesi per esempio quella del Duca di Bedford lui ha nella sala da pranzo 24 canaletto cioè si portavano a casa tutti questi dipinti molto rappresentativi dell'Italia e infatti Thomas Jones dipinge delle cose che nessuno comprerà mai lui se le riporta tutte a casa scrive anche nel suo diario io sono un pittore born out of the due time sono un pittore nato in un tempo sbagliato il re di Napoli preferisce Hackert che gli fa tutte le figurine e tutte tante figure dentro a un dipinto però guardate la libertà tant'è vero che quando il direttore del MoMA del Museum of Modern Art di New York della sezione fotografia che era Peter Galassi ha fatto una mostra l'ha intitolata Before Photography cioè prima della fotografia e ha aperto con un dipinto di Thomas Jones perché questo taglio così a noi sembra quasi normale perché siamo abituati allo zoom siamo abituati ma un paesaggio di solito allora aveva sempre delle quinte aveva un lontano aveva dei piani era costruito come una composizione accademica ecco un paesaggio era questo dove c'erano tante cose dove uno voleva non esistendo la fotografia il paesaggio aveva questa funzione di illustrare mentre arriviamo in questo momento in cui uscendo fuori il pittore cambia completamente vede un pezzo di cielo gli sembra stupendo dipinge di un paesaggio così che resterà nel suo atelier per sempre perché il pittore è molto più avanti del mercato per vivere molti di questi pittori sono completamente scissi hanno due personalità Granet fa dei dipinti del tutto come questo e poi invece è famoso come Le peintre des Capussins il pittore dei capuccini e dei chiostri cioè ha un repertorio che in qualche modo è vicino al libro che esce in quegli anni così importante di Chateaubriand le scene di cristianismo insomma questo cattolicesimo ritrovato quindi nasce una pittura che è molto libera il fatto di uscire fuori questo prima voglio farvi vedere è un dipinto fatto in uno dei feudi dei Farnese fatto da Valenciennes io sono andata su questo posto e ho scattato una fotografia che come vedete è quasi uguale allora questa è la fotografia di quel luogo oggi e questa è l'immagine rovesciata che aveva dato Valenciennes allora uno può dire beh cosa ci vuole bastava guardare uno era una cosa bella ma per per dipingere quello che l'occhio in quel momento riesce a catturare ci voleva una grandissima consapevolezza cioè di fare tabula rasa di tutto quello che l'accademia la cultura ti aveva fatto è molto difficile molte volte fare le cose in una maniera immediata perché un pittore cresce sulla pittura cresce su delle discendenze figurative per il piacere di guardarle vi faccio vedere alcune immagini appunto questo è un tedesco che tutte quante in Italia quando Blechen che è questo tedesco che viveva ai confini della Danimarca ritorna in Germania non è più così libero cioè questo magnifico diciamo esplosione che si determina tra il background di un artista scandinavo nordico eccetera che sogna questo incontro e l'Italia determina una reazione che è straordinaria molto spesso questi pittori anche dal tornati nelle loro terre non hanno più questo elemento di ispirazione per esempio Thomas Jones che abbiamo visto prima quando ritorna in Inghilterra a Cardiff nel Galles non dipinge più non fa più niente non ha dice io non trovo più la spinta e io sono andata a vedere anche la sua tomba e sulla sua tomba c'è scritto Thomas Jones ex squire cioè cavaliere nessuno si ricordava nemmeno più che era stato un pittore quindi c'è l'Italia ha questa funzione di reagenti ancora voglio farvi vedere ancora alcune cose siamo sempre intorno al 1782 questa è Roma lo dico perché questi artisti in maniera intuitiva andando fuori scoprono delle cose che poi gli impressionisti cento anni dopo renderanno assolutamente evidenti perché hanno vicino anche degli studi scientifici per esempio sull'ottica di quegli anni che spiegano molte cose faccio vedere questo dipinto fatto da Valenciennes che abitava Roma in strada Laurina che è una piccola trasversale di via del Babuino sono salita lui abitava all'ultimo piano e vedeva dei tetti e al di là c'era piazza del popolo allora lui dipinge questo tetti al sole e all'ouvre e questo tetti all'ombra che cosa vuol dire? cioè forse vi viene in mente una sequenza una suite famosissima di cattedrali fatta cento anni più tardi da Monet in cui dice la cattedrale di Ornon all'alba al tramonto con la pioggia quindi cioè il soggetto alla fine non diventa più la cattedrale ma diventa la luce che attribuisce a quella stessa architettura un colore arancio un colore blu un colore viola e quindi il soggetto è la luce e qui in Valenciennes c'è già questa intuizione che poi lui non sviluppa perché anche Valenciennes vive facendo dei bellissimi paesaggi a olio su tela grandi con delle ninfe nascoste in un bosco e quelli sono i paesaggi che lui riesce a vendere ma per sé ha già in questo doppio dipinto l'intuizione che il soggetto non ha molta importanza e anche qui è molto in anticipo perché noi fino a una certa data i quadri devono avere un titolo e una storia il primo che proprio in maniera consapevole diciamo nega oramai questo è nell'età degli impressionisti è appunto Manet che quando Manet nel 1870 dipinge una donna nuda che era una prostituta che era l'Olympia cioè una grande donna nuda sdraiata bellissima e il suo grande amico Emile Zola lo scrittore che scrive molto su Manet lo interroga e gli dice ma questo nudo bianco meraviglioso così ma perché gli hai messo vicino una donna nera c'è la serva come si può dire insomma l'ancella non so come si possa dire l'altra figura che è una nera e Zola che era molto attento ai temi sociali si aspettava che Manet gli rispondesse perché insomma bisogna poi tenere presente tante cose invece Manet gli dice j'avais besoin d'une tache avevo bisogno di una macchia scura cioè io gli ho messo vicino a questo non mi interessa affatto una lettura di un altro tipo io sono un pittore di fronte a un nudo e burneo e chiaro e perché risalti ho bisogno di una macchia scura e aggiunge le sujet est un prétexto a peindre cioè il soggetto è solo un pretesto per dipingere ma siamo nel 1870 cioè il soggetto non conta più conta come tu lo dipingi e questi artisti che stiamo guardando di cento anni prima andando fuori all'aperto hanno già questa intuizione che però rimane un fatto del laboratorio loro non ha un impatto sul mondo faccio per far vedere quanto sono belli questi per esempio questo è un artista che scrive sotto a questo piccolo luogo di un luogo stupendo che c'era a Roma che era la villa Montalto Negroni la più grande villa dentro le mura romane che è stata atterrata e distrutta completamente quando Roma diventa capitale e si deve costruire stazione Termini e quindi tutta questa villa che andava fino a Santa Maria Maggiore e fino alle termine di Diocleziano viene distrutta aveva un punto in cui c'erano questa cosa che per tutti è una miscela meravigliosa il verde scuro dei cipressi e i pini marittimi che hanno un verde più tenero e questo artista che è un artista probabilmente francese sottoscrive come titolo bouquet de peintre cioè come dire che era già un bouquet già pronto per i pittori la natura era così bella che sembrava quasi fatta per essere recuperata e dipinta ma parlo sempre di dipinti che hanno un valore personale cioè sono tutti rimasti negli atelier dei pittori perché fuori il mondo non era pronto per prendere questi che chiamavano questi jolis riens queste cose da poco che non avevano racconto e figura però il momento nascente perché sono talmente belli i colori dell'Italia questo ocra di Villa Medici nella zona di Piazza di Siena tutti questi verdi vedete questa le essenze vegetali dell'Italia insomma questa dolcezza del paesaggio perché non ha mai quegli spigoli quei lati come aguzzi del paesaggio nordico che vengono questo è un pittore danese scusate un pittore svedese di Stoccolma Gustav Palma e qui volevo far vedere come l'altro elemento che cambia quando un pittore va all'aperto cerca la poesia come il giovane Werther di Goethe nel quando è sdraiato sull'erba che guarda tutti i fili d'erba cerca la poesia nelle piccole cose nel quotidiano e quindi non è più questa celebrazione del Colosseo delle grandi icone ma se anche vai al Colosseo dipinge un luogo secondario del Colosseo questo artista racconta che la cosa che gli piaceva di più al Colosseo erano le violaciocche erano tutti rampicanti era questa prima che i diserbanti riducessero questi luoghi archeologici come dei crani e questo è questo mio pittore che è Granè naturalmente ritratto da Ingres che era allora giovanissimo non famoso e che ne fa già una specie di prototipo di grande pittore romantico col tabarro di velluto questo spacco di bianco di fronte a Roma tempestose oragese insomma l'idea del pittore di allora questo è sempre Granè e voglio far vedere un'altra cosa dipingere così in fretta vuol dire cambiare molto le tecniche perché tu in mezz'ora devi elaborare questo quindi dipingi per forza in una maniera molto più come un bozzetto molto meno finita molto meno delineata e addirittura introducono una tecnica che si chiama al risparmio e cioè se voi guardate la luna la luna non è dipinta di bianco il pittore lascia la carta non preparata sotto perché si rende conto che se tu gli attacchi sopra gli spalmi sopra del bianco perde di luminosità la fibra della carta è luminosa in se stessa quindi introducono queste tecniche in cui molte volte lavorano sui vuoti lavorano sul bianco lavorano si direbbe sul silenzio insomma se fosse Alfieri se fosse letteratura se fosse Mallarné insomma quando parla appunto di questi spazi nuovi quindi e anche queste sono tecniche vedete di un dipinto questo è il cielo sopra Montemario a Roma ma se guardate come è dipinto con il frottage insomma sarebbe molto difficile datare questi dipinti questo è 1802 datarli a questo momento se noi non conoscessimo il momento esplosivo di libertà che viene da questo rapporto con la natura dall'essere fuori e dal voler raccontare non tanto i dettagli quanto questo rapporto emotivo e rendere la bellezza di questo incontro di questo attimo di questo momento io ritrovo veramente diciamo sembra Max Ernst sembrano questi dipinti straordinari e molto spesso vedete il primo piano è non finito a parte la bellezza della campagna romana quando voi guardate il ponte Nomentano così da solo nel Tevere in questa campagna solitaria doveva essere andare a cavallo come andavano lì doveva essere assolutamente meraviglioso e questo pittore si è fermato non ha finito quel giorno e poi il giorno dopo ha chiuso con un intervento quasi surrealista cioè ti puoi permettere queste una volta che tu legittimi che il bozzetto è bello come il quadro finito cioè che il bozzetto è già bello in sé non è solo preparatorio per un dipinto molto più finito più complicato lo puoi addirittura chiudere come credi cioè questo rapporto con la realtà è un rapporto emotivo che puoi comporre in una maniera di grande libertà cioè lo faccio vedere perché è abbastanza un'altra cosa se avete ancora qualche minuto un minuto è un'altra cosa che voglio far capire perché ho cercato di più che raccontare insomma far vedere come questa idea dell'andare a piedi c'è un libro di George Steiner sull'idea dell'Europa che è meraviglioso che è appunto piccolo libro stupendo che spiega qual è la differenza tra l'Europa e l'America e dice che le differenze sono cinque una che le nostre strade hanno tutti i nomi di una non si chiamano quarantasettesima strada terza avenue ma si chiamano piazza Cavour via Goethe eccetera hanno tutti una storia molto e fra queste differenze c'è quella che da noi il cambiamento lo devi percepire a piedi cioè come l'Emile di Rousseau devi appunto andare a piedi perché sono luoghi che cambiano continuamente se voi attraversate l'Ohio insomma tutti questi campi di Mais possono durare non so quante miglia mentre da noi proprio a ogni attimo c'è questa diversa variazione allora l'andare a piedi e l'uscire fuori cambia molto anche la geografia dell'Italia c'erano dei luoghi che prima non venivano dipinti per esempio la montagna fino al romanticismo fino all'Ottocento non è quasi mai rappresentata perché la montagna era considerata intanto non bella nel senso che a parte Petrarca che è l'unico ma non bella nel senso che noi abbiamo un'idea di bellezza che è fondata sulla tradizione classica cioè sulla norma sulla regola per noi bellezza è armonia proporzione simmetria insomma il rinascimento è questo quindi questa bellezza così asimmetrica viene riscattata solo quando in Inghilterra c'è tutta una teoria filosofica di Edmund Burke sul sublime che ci racconta che il sublime è un momento in cui la bellezza ha uno scarto cioè è bello l'orrid può essere bello il baratro può essere bello il buio può essere bella l'oscurità può essere bello il vuoto cioè tutti quegli elementi che noi nella nostra tradizione classica abbiamo scartato e quindi una della geografia che cambia è la riscoperta della montagna non so se qualcuno di voi cammina molto sulle Dolomiti ci sono tantissimi passi che hanno dei nomi inglesi perché sono gli inglesi che venendo o dal Gotthard il tedesco oppure dal Monsenisi attraversano le Alpi e una volta che viene sdoganata questo tipo di bellezza cioè che la bellezza può essere anche anticlassica allora la vertigine delle Alpi il Manfred non so di Byron sono tutti elementi che in letteratura e in pittura spalancano dei mondi diversi e io citavo questa frase che la voglio leggere di Ruskin perché è talmente bella queste le montagne cioè le montagne queste grandi cattedrali della terra con i loro cancelli di roccia pavimenti di nuvole altari di neve e volte di porpora attraversati da una disseminazione di stelle cioè capite che il sacro una volta che la rivoluzione francese ha messo la scienza al posto della religione il sacro è transitato nella natura cioè è solo nella natura che tu puoi ritrovare questa dimensione spirituale questa dimensione di misticismo Ruskin poi scrive in una maniera sublime e quindi un altro dei panorami che si aprono è quello delle montagne che in passato questo è un dipinto del 200 di Duccio molto bello le montagne erano solo il luogo dove stavano i demoni cioè dei luoghi inesplorati o gli eremiti diciamo aspri ostili all'uomo la volta in cui si racconta la montagna la montagna è raccontata in passato in questo modo c'è qualche eccezione uno di questi è Dürer quando viene in Italia un altro chiaramente è Leonardo che già esplora queste cose però il tema della montagna esaltato come bellezza il paesaggio è un tema profondamente romantico questo è un italiano e questo nido d'aquile in cima a questa è meraviglioso non so se ci siete stati perché è la sacra di San Michele fuori Torino dipinta da Baggetti e vedete come c'è un tipo di bellezza dove il mistero l'elemento l'elemento appunto di una bellezza che insieme può essere anche terrore può essere anche paura non è sempre solare cioè accanto alla nostra idea di bellezza classica viene promossa un tipo di bellezza diversa e questo spalanca sulla scoperta di altri mondi che per noi sono le Alpi e degli inglesi che vengono in Italia che non hanno mai visto delle montagne come queste l'aspetto spettacolare delle Alpi viene raccontato da loro come da nessun altro questo è ancora Ruskin con grandissima insomma libertà questo è l'Etna di Ruskin e vedete che già questa libertà di raccontarla senza in modo diciamo fedele e sono sempre paesaggi di idee e tu vuoi dare della montagna questa idea che è più cielo è più vicino al cielo che alla terra e quindi diventa azzurra cioè sei libero di esprimerti attraverso i colori come dirà appunto Van Gogh insomma uso il giallo perché il giallo dà questo senso di ansia e di drammaticità i colori al di là della forma lo spiegherà poi molto bene nel Bauhaus la nuova psicologia della percezione insomma possono comunicare anche al di fuori di questo e vogliamo fare un salto nelle nostre vedere ancora come il Vesuvio viene raccontato in tempi moderni e fa parte ancora della grande mitologia della pop art insomma il Vesuvio da sempre anche un artista che non dipinge davanti al Vesuvio sa che il Vesuvio proprio nel Settecento proprio perché nel Settecento è stato un vulcano molto attivo ci sono delle famosissime eruzioni nel 1764 a Colonna che tutti raccontano viene celebrato perché l'Italia offriva da un lato una bellezza classica dall'altro una bellezza anche sublime anche eccessiva anche sregolata anche al limite della l'ultimo dettaglio che voglio far vedere è questo prima parlavamo di Poussin è un pittore del Seicento il quale dipinge queste grandi tele naturalmente nel suo atelier però da quello che raccontano le fonti lui andava a cavallo per la campagna romana e stava ore e ore a studiare questi paesaggi che poi rimontava come un puzzle di piccoli dettagli perfetti nel suo studio e il paesaggio di Poussin si dice rappresenta da un lato l'idea della Grecia dove nessuno mai era andato perché la Grecia era sotto i turchi era inarrivabile inavvicinabile del resto la Grecia più bella è quella che è stata raccontata da chi in Grecia non c'era mai stato da Hölderlin a von Kleist a Nietzsche cioè tutti quelli cioè la Grecia del cuore la Grecia sognata alla fine è questa idea della Grecia che noi abbiamo viene da persone che l'hanno studiata sulle fonti non l'hanno mai incontrata e che ancora ha questa dimensione per noi insomma diciamo esemplare ecco allora Poussin da un lato rappresenta una specie di Atene di città ideale greca e dall'altro la campagna romana che per tutti quelli che verranno in Italia che varcheranno le Alpi dopo Poussin sarà sempre vista attraverso tutti i famosi quadri di Poussin Poussin nella campagna romana che era come oggi cioè ulivi lecci querce cipressi pioppi dipinge solo le querce perché un pittore cioè non dipinge quello che vede ma sceglie degli elementi che per lui sono la connotano e l'idea eroica che lui vuole dare della campagna romana questo luogo classico di pace di bellezza perfetta equilibrata vedete il contrapunto fra le due quinte le due querce ai due lati la centralità di questa scena in cui la moglie di Focione raccoglie le ceneri del marito in un'Atene mitizzata cioè la quercia Robur la forza l'età classica e lui nella campagna romana c'erano tantissime specie botaniche lui dipinge la quercia come se il paesaggio fosse fatto quasi soltanto e la quercia nella sua massima come posso dire alberità cioè la chioma più grande di questa quercia possibile passano del tempo la campagna è sempre quella i pittori romantici quando dipingono la campagna italiana è fatta solo di cipressi perché l'obelisco verticale scuro drammatico enigmatico del cipresso corrisponde molto di più alla sensibilità romantica quindi la natura è quella ma il pittore la plasma e noi ritroviamo di volta in volta un paesaggio in cui che corrisponde ad un nostro momento e con questo sono soprattutto i tedeschi che trovano nella presenza di questi perché il cipresso è un albero meraviglioso i tedeschi che lo raccontano e voglio chiudere con un'immagine che è una celeberrima immagine di Arnold Berklin lui viveva nelle colline di Firenze a Settignano vive in Italia e quando dipinge questa isola dei morti con queste falesie di roccia fessurate da questi cipressi ipertrofici che cosa fa? da un lato si ispira al piccolo cimitero a Cattolico di Firenze il cimitero degli inglesi dove lui aveva sepolto questa sua bimba di otto anni che si chiamava Maria e dall'altro è forse l'isola di San Michele di Venezia come idea che si sovrappone cioè c'è un'idea inventata e ricreata dall'artista che è la quintessenza di questa isola cimitero e dove è il cipresso l'elemento simbolico che esiste quindi per dire che c'è un paesaggio che c'è ma poi c'è un paesaggio nel quale noi ci riconosciamo e che pensiamo che quella sia l'Italia e che è stato in qualche modo selezionato e poi reso immortale per noi proprio attraverso l'immagine che ne hanno dato gli artisti non ho guardato l'orologio ho paura di aver fatto troppo chiedo scusa grazie 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 a tutti grazie a tutti